I padiglioni delle fiere di Vallo della Lucania ospitano dal 28 novembre al 1 dicembre la dodicesima edizione di Sposissima 2013 Salone della Sposa. Quattro giorni di eventi, sfilate, workshop, ma soprattutto matrimonio e tutto quello che gira intorno. Un'ottantina di espositori tra Wending Planner, firme dell'alta moda sposa, negozi di arredamento, location esclusive, make-up artist, fioristi, agenzie di viaggio e tour operator e ancora noleggio auto e bomboniere. Ogni sera dalle ore 18 i riflettori saranno puntati in passerella dove la testimonia al 2013 la bellissima modella Nina Morici sfilerà domenica 1 dicembre. Grande attenzione nella serata inaugurale di giovedì 28 novembre per la quarta edizione di Miss Intimo Sposa curata dalla Linus Production dove una ventina di modelle non professioniste si sfideranno in passerella in lingerie rigorosamente da sposa per conquistare l'ambita fascia e corona. Si prosegue venerdì 30 novembre con la settima edizione del concorso interregionale di moda riservato alle scuole Orange Flower Fashion. Sabato 30 novembre si partirà con i defilé di abiti da sposa e cerimonia che vedranno protagonista in passerella la bellissima Chiara Cennamo, quarta classificata Miss Italia 2013. E domenica 1 dicembre la chiusura con in passerella Nina Morici. Un appuntamento dunque importante per informarsi su mode e tendenze e mettere a confronto prezzi e prodotti esposti. Molte le proposte nel segno della tradizione per chi vuole stupire con un abito o un ricevimento da sogno. La dodicesima edizione di questa manifestazione è dedicata al giorno della sposa, al giorno del matrimonio. Mai come quest'anno è ricca di espositori anche perché ormai da qualche anno abbiamo estremamente segmentato la manifestazione specializzandola solo ed esclusivamente al mondo della cerimonia. E quindi saranno presenti tanti atelier, sale ricevimento, ristoranti, wedding planner che oggi vanno tanto di moda. Insomma tutto quello che è il comparto e il segmento del settore sarà presente in fiera anche con delle presenze estremamente particolari e particolarmente professionali. È un evento collaudato del ricco cartellone di appuntamenti delle fiere di valle, un evento a cui poi tenete in modo particolare. Sì, noi ci teniamo in maniera particolare a questo evento che quest'anno ha anche la collaborazione di Fiera Milano perché verranno dei delegati di Fiera Milano dell'evento della sposa che è un evento internazionale della sposa per selezionare quelle produzioni più intriganti da presentare poi l'anno prossimo nella collezione sposa. Quindi è un trampolino di lancio per i ragazzi e questa iniziativa che lega il mondo della scuola con il mondo dell'artigianato e chiaramente il mondo della cerimonia è una cosa che curiamo da tanti anni e su cui lavoriamo moltissimo. Sabato e domenica le sfilate professionali. Abbiamo diversi atelier, Carabs di Battipaglia, Pinesposito, Vulturale con noto stilista della regione, Barbara Boutique. Abbiamo tanti atelier, tante possibilità di scegliere l'abito da sposa o l'abito da cerimonia direttamente dal vivo indossato da tante modelle ben selezionate tra cui la Moric. L'invito a partecipare sicuramente non è solo per chi si appresta a pronunciare il fatidico sì ma anche per chi desidera trascorrere sicuramente uno o più pomeriggio in maniera diversa. Noi diciamo che quando si aprono i canciati della fiera e fiere allestite è sempre un'ottima occasione per essere presenti. Tra le altre cose in questa edizione l'entrata sarà gratuita quindi sappiamo benissimo che questo non significa molto però in questo momento dare libero accesso a chiunque voglia visitare la fiera giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica l'intera giornata è un'occasione in più insomma per dar modo alle persone di vivere questo quartiere feristico.